Il mio fiore nel cielo è una dedica per Anna Carlini questa fatta incidere su una targa che ora però non c'è più al cimitero dei Colli. Sparita anche la foto della ragazza, morta a soli 33 anni dopo essere stata violentata e lasciata agonizzante sotto al tunnel della stazione ferroviaria di Pescara. I fatti risalgono all'agosto del 2017. Quel luogo sacro dove la sorella Isabella Martello non è potuta andare per due settimane è stato violato e ora si chiede l'installazione delle telecamere all'ingresso del cimitero. Il consigliere comunale Massimiliano Pignoli ha garantito il suo impegno e in commissione sicurezza affronterà questo problema. Io sono veramente sconvolta perché se veramente nemmeno al cimitero una persona può riposare in pace non lo so io ho esposto querela perché comunque chi ha fatto questo reato venga venga risponda ai sensi di legge. Che dire non voglio non voglio pensare che è stata una ritorsione questa comunque siamo vicino alla cassazione dell'assassino di Anna che si tra il 4 giugno. Io non riesco a credere ad un gesto del genere. Al comune chiedete di mettere le telecamere? Io chiedo di mettere le telecamere che vengono installate le telecamere al cimitero perché dopo questi atti cose comunque gravissime. Noi ormai già viviamo il dolore e adesso viviamo anche lo sconforto. Avvocato intanto si avvicina anche la data per la cassazione come procede l'iter giudiziario? Sì come ha detto Isabella abbiamo saputo da poco che è stata fissata l'udienza davanti alla corte di cassazione sui ricorsi presentati dai due imputati. Chiaramente questa notizia c'è quella del vilipegno della tomba di Anna butta la famiglia ancora più nello sconforto e fa guarda caso pensare che possono esserci anche dei collegamenti con questo processo. Al momento il capo di imputazione, il reato per cui questi due imputati sono stati condannati e violenza sessuale per uno e per entrambi omissioni di soccorso aggravato dalla morte. Chiaramente nel corso del procedimento abbiamo anche accertato ulteriori elementi che vediamo un po' con l'esito di questo giudizio di fare il punto di situazione. Sicuramente sono emersi elementi nuovi che insomma comunque corroborano la nostra tesi cioè quella che Anna comunque è stata fatta bere o comunque è stata fatta gerire nel farmaco che l'ha portata dalla morte quindi c'è stato un coinvolgimento di terze persone e non diciamo una morte tra virgolette derivate dalla condotta riconducibile direttamente a Anna.